separati ma uniti grazie alla tecnologia, è vero, è vero. Beh, direi che per Fight the Stroke la tecnologia è sempre stata un'arma usata bene e direi che in questo momento più che mai. Dicevo, la mia proposta... Oh, guarda qua Anna, ciao, ciao anche a te, che bello! E ci diamo appunto, dicevo, qualche minuto per aspettare di essere, insomma, di non essere troppo piticchini, 17.30 all'inizio, se iniziamo almeno 5 minuti, Eleonora, ciao! Di essere un po' elastici, diamo il tempo alle persone di arrivare, sono giornate complicate, complesse, sia complesse che complicate, magari oggi avremo modo anche di vedere qual è la differenza tra complicato e complesso, ma questi sono giorni che lo sono tutti e due, e quindi ci diamo un po' il tempo di aspettarci, un po' come se fossimo... di fatto siamo in una stanza, insieme, facendo gruppo, e allora è giusto aspettarsi. Eh sì, c'è Eleonora, Giussi, me la sono persa, non la conosco e non l'ho salutata, malissimo, ai ai ai! Vabbè, ogni tanto mi vedrete scorrere... per vedere i vostri commenti. Tra l'altro è la mia prima diretta Facebook, sono molto molto fiera e contenta. Ciao Stefania e Graziano, e sono contenta di farla per e con... Ciao Stefania! di farla per e con Fight the Stroke. Molto molto contenta. Eccoci, aumentano i numeri, eh? Siamo un bel gruppetto. Agnese! Marta, mamma mia che bello, mi vorrei abbracciare tutti quanti, ma per ora non si può, dobbiamo aspettare. Ciao Agnese! Tesoro Tina! Tu lo sai che io ti ho... Nel cuore! Ciao Marta! Niccolò, favoloso! La foto di Niccolò con il... Il... Ah! Arcobaleno in mano è stupenda! Ciao Salvatore! Ciao Elena! Che bello, siamo proprio tanti! Allora... Franci, poi sarai tu che mi dici quando parto, ok? Aspettate, devo togliere l'audio, perché sennò i vari... Ehm... Ok, così, i vari messaggi da cellulare non mi distraggono. Ehm... Sono e 34. Ehm... Ehm... Ok... Ecco, il bello della diretta. Dire ai figli di fare silenzio. Ho iniziato ragazzi, ok? Ok, bene. Possiamo partire. Sì, voglio anche qua dietro dalla regia farlo un po' di cacciara, ma insomma dovremo stare in questi giorni di... Forse parleremo un po' anche di questo, hm? Di come anche gli spazi familiari si siano ciao. Vedo, vedo nuove persone arrivare. E di come, insomma, anche gli spazi si... Si vanno... Ciao Attilio! Sì, sicuramente ti saluterò su Ban. Allora, ehm... Inizio con il presentarmi, perché... Eh... La cacciara fa famiglia. Allora noi facciamo molto famiglia. Allora siamo molto molto famiglia. Allora, ehm... Iniziamo ufficialmente questa... Questa diretta, questo momento di condivisione. E che... Ora vedremo anche dove è nato, da cosa è nato. Parto col presentarmi, perché... Molti ho visto che, insomma, dalle facce, dai commenti, dai sorrisi... Molti di voi già mi conoscono. Però qualcuno... Qualcuno potrebbe invece... Qualcuno invece non mi conosce. E magari nei prossimi giorni vedranno il video. E quindi mi sembra giusto dire chi sono. Allora, io mi chiamo Valentina Gagliardi. Sono mamma di Suban. Un bambino che ha avuto una... Una sofferenza per il Natale. E non abbiamo tantissime informazioni, perché mio figlio è adottato. È nato in India. Ecco noi da quando ha cinque anni. E... E ha un'emiparesi destra. E quindi... Facciamo parte di questa bella famiglia, di questa bella combriccola di Fight the Stroke da un po' di anni. E ho conosciuto Fight the Stroke in un modo che io le chiamo le dioincidenze. E li ho conosciuti in tempi quasi non sospetti. Cioè noi eravamo ancora in attesa di partire per l'India per andare a prendere nostro figlio, di cui conoscevamo già il quadro clinico. E ho per caso, dioincidenza, ho per caso visto su internet il talk di Francesca, di Roberto e Mario. E chiaramente alcune nessi, insomma, mi hanno colpito e me l'hanno fatto osservare. Messo da parte, molto interessante, molto bello, ok, aspettiamo, 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 aspettiamo. E poi succedono le cose che succedono nella nostra storia di famiglia, andiamo a prendere Subban, eccetera. E poi arriva, dopo un po' di anni, un paio d'anni, arriva un nostro ricovero a Bosisi Operini, dove io vedo la locandina della presentazione del libro di Francesca. Rimango folgorata, collego che era quel libro, amico di quel TED che io avevo visto. Mario ringrazio per la citazione, mi sembra doverosa. Ringrazio il cielo di questa occasione, ma la presentazione del libro era esattamente il giorno dopo la nostra dimissione da Bosisi. Quindi, come diciamo a Roma, rosico da morire, perché volevo incontrare Francesca, sentire del libro. Va bene, mi adatto e accetto questa cosa. La notte navigo in internet e mi scarico intanto il libro e me lo inizio a leggere. E da lì ho iniziato a conoscere Fight the Stroke, nel senso che mi sono informata, mi sono messa in contatto con loro in occasione della possibilità di partecipare a Mirrorable e così via. E sono entrata nel mondo, anche io in questo fantastico mondo di Fight the Stroke. Abbiamo partecipato come famiglia a Mirrorable. Dico come famiglia perché è vero che l'allenamento, la riabilitazione l'ha fatta su Ban, con la mitica Noemi, ma è vero che per com'era il programma tutta la famiglia ha partecipato. E quindi abbiamo fatto anche il Fight Camp, abbiamo il Mirrorable Camp, scusate, il Fight Camp. Insomma, siamo stati proprio fortunati. Perché tutta questa pippica? Perché, per spiegarvi un po' anche perché sono qui. Oltre a tutta questa roba, io sono anche psicologa, psicoterapeuta. Mi occupo di sostegno alla genitorialità adottiva, biologica e sostegno alla genitorialità in presenza di disabilità. Quindi genitori di bambini, ragazzi, adulti, disabili. E proprio in occasione di uno di questi due camp, nell'ultimo, dopo una mia felice esperienza su Roma, di accompagnamento di un gruppo di genitori, di bambini con disabilità molto complesse, era andato molto bene. Allora, una volta che ci hanno preso al camp, ho proposto a Fight Stroke se poteva essere valido creare uno spazio di ascolto che io avrei accompagnato per i genitori. E così è stato. Quindi molti di voi c'erano in quelle due mattinate che abbiamo passato insieme ad agosto a Milano, durante il Fight Camp. e tutta questa introduzione era anche per spiegare perché ci troviamo qui. Perché ho pensato da parte mia, era un modo, ogni volta che posso, insomma di ricambiare la splendida attività che Francesca, Roberto e Mario e chi è intorno a loro fa a favore della mia famiglia. E quindi io sono molto contenta di poter in qualche modo ricambiare. Ma soprattutto perché credo fortemente nel potere del supporto a vicenda. Lo credo da mamma, lo credo da operatore e uno dei miei emotti, chi mi conosce lo sa, ormai è diventato fisso e solo tu puoi farlo, ma non devi farlo solo. E' anche un hashtag, diciamo, che mi piace utilizzare più volte per dire come ci sono delle situazioni in cui bisogna agire, ahimè, purtroppo per fortuna, prendere decisioni, fare delle cose da soli, ma questo non vuol dire che bisogna farlo soli. Cioè, scusate, ci sono delle situazioni in cui dobbiamo farlo noi, ma non da soli. E contestualizziamo dove siamo, quando siamo, siamo a marzo del 2020, siamo in piena, 25 marzo 2020, siamo in piena emergenza da pandemia di Covid-19, di coronavirus. E questo mio intervento, che ha come, diciamo, titolo come affrontare la paura in questo momento storico di noi genitori e dei nostri figli, è chiaro che ha una cornice di tipo molto diverso. Non è la prima volta che, sì, lo scriviamo, esatto, solo tu puoi farlo, ma non devi farlo solo. E' un tema che io ho trattato altre volte, ma nel prepararlo per oggi, innegabilmente, ho dovuto riflettere e l'ho pensato calato nei nostri giorni. Allora, io mi sono, quindi questo è un po' una intro per dirci come mai siamo qui, in che contesto e soprattutto con che scopo. Lo scopo è condividere, io vi darò delle informazioni, purtroppo non ci sarà uno scambio guardandoci. Lo scambio però vi invito davvero a mantenerlo alto nei commenti. quindi domande, cose che non vi sono chiare di quanto io andrò a dire, dubbi o anche solo testimonianze, per quanto debbano essere brevi nello spazio di un commento, ma testimonianze di come per voi sia vero o meno quello che andremo vedendo e dicendo, saranno davvero dei contributi preziosi, in maniera che non sia un mio parlare e basta. La mia idea è questa, quella di prendermi dieci minuti, un quarto d'ora per un inquadramento, per darvi delle informazioni, per dare proprio delle nozioni, io la chiamo psicoeducazione, quindi capire un po', dare un po' delle indicazioni in questo momento, riguardo alla paura nostra e dei nostri bambini o ragazzi, perché crescono pure e da bambini diventano ragazzi, e dopo questi 15 minuti più o meno di mia trattazione, mi piacerebbe tacere, e o le domande che avrete fatto nel frattempo o quelle che farete da lì in poi, vorrei, mi piacerebbe che insomma diventassero un modo per animare il confronto. Allora, partiamo, io sono partita intanto da leggere il sondaggio che è stato messo sul nostro gruppo, e mi sono un po' tirata fuori quelle votazioni, diciamo, quelle esigenze che abbiamo, avete segnalato come importanti per voi, in risposta alla domanda famiglie di che cosa avete bisogno in questi giorni. E alcune mi sono saltate agli occhi, chiaramente visto il taglio del mio intervento e vista la mia di formazione, e su quelle un po' ho ragionato per preparare questo confronto. Moltissimi, la prima credo, in ordine di votazioni, sono preoccupato o preoccupata nel caso dovesse succedere qualcosa a me o a mio figlio o figlia, chi potrebbe curarsi di noi? Quindi questa, se non ho segnato nella mia stampa, non ho segnato i numeri, ma vado a memoria e mi sembra che fossero 65 le persone che hanno detto sì, questa roba qui mi riguarda, parla di me in questo momento. Poi c'è non so come alleviare questo stato di paura, agitazione e tristezza che mi circonda. non riesco a prendermi cura di me stesso o di me stessa, non riesco a concentrarmi o a prendere decisioni, che cosa vorreste in questo momento. La risposta è stata uno psicologo per affrontare i problemi attuali, ma soprattutto quelli che avremo tra due mesi. e poi vorrei qualcuno che mi ascoltasse. Quindi queste sono alcune delle richieste, delle risposte che voi avete dato alla domanda di che cosa avete bisogno in questo momento. Allora, la mia speranza, la mia intenzione è con questo momento di condivisione di dare dei, non delle soluzioni. Chi mi conosce sa che io più che decaloghi e soluzioni amo cercare e costruire con chi ho di fronte dei criteri. Perché le soluzioni possono andare bene se si è fortunati in due o tre casi, ma poi la vita è molto più complessa di quei due o tre casi che si trovano in un decalogo e invece un criterio è molto ricco. Ok, quindi qualcuno sta proprio supportando alcune delle risposte, non riesco a concentrarmi. Allora, vorrei partire non tanto da regole, da criteri, aiutiamoci l'un l'altro e ognuno con sé a capire e comprendere la cornice all'interno della quale succedono delle cose. Ok, non riesco a prendermi cura di me, non riesco a concentrarmi a prendere decisioni, non so come alleviare questo stato di paura, sono tutte cose collegate. Quello che noi stiamo vivendo sono momenti, allora intanto unici, unici nel suo genere. Ognuno di noi, direi ognuno di noi, ha avuto almeno un evento traumatico, potenzialmente traumatico, certamente doloroso nella propria vita e probabilmente più di uno. partiamo col definire che cos'è un fenomeno, una situazione quando è traumatica. Un evento brutto è sempre traumatico o no? Un evento brutto è un evento brutto. Per fortuna il nostro cervello, eccolo qua, il nostro cervello è stato costruito. Ok, io intanto vi leggo, memorizzo e dopo risponderò e starò con quello che voi commentate. Dicevo, gli eventi negativi sono necessariamente eventi traumatici? No, assolutamente no, perché il nostro cervello per fortuna è nato per digerire faccio questo proprio questo movimento l'emisfero destro l'emisfero sinistro è nato per digerire masticare qualsiasi evento faticoso brutto negativo ci accade anche quelli positivi tutti gli eventi. È chiaro che diventa complesso digerire se quello che arriva è davvero tanto. Esempio il nostro cervello è un po' come il nostro stomaco. allora se io mangio un tacchino e sono adulta vaccinata e ho uno stomaco con enzimi organizzati magari rimarrò un po' attufata però lo digerisco. Se quello stesso tacchino io lo prendo e lo do a mio figlio di due anni lo stomaco anche lui ce l'ha ma com'è non funziona? Eh no non funziona perché è troppo presto per quel bambino mangiare quel dato alimento. che c'entra? Ok c'entra che il nostro cervello è sì fatto formato pronto costruito per digerire tutto ma se arriva tutto troppo tutto insieme troppa roba allora si può bloccare è un po' come se gli emisferi si bloccassero non macinassero più ecco che arriva l'aiuto in alcuni casi anche con pratiche terapeutiche come le MDR che aiutano a elaborare a sciogliere ok dicevamo che cos'è che diventa trauma? Beh diventa trauma quando è per esempio è troppo rispetto alla capacità di assorbire o ravvicinato nel tempo lo stimolo o si è troppo giovani o si è vulnerabili allora non so terremoto terremoto di amatrice se io ho avuto una vita normale diciamo nessun trauma niente di che vado ad amatrice e ho sono lì la notte del terremoto è chiaro che avrò un evento scioccante potrebbe essere traumatico lo elaboro e e vado avanti se io invece ho anche dei pregressi è chiaro che quell'evento si bloccherà nelle mie nella mia nella mia vita rimarrà un evento bloccato e bloccante allora vi ho fatto l'esempio del terremoto non a caso perché la mia personale visione di quello che stiamo vivendo e ora arrivo alla difficoltà di concentrarsi magari anche di dormire eccetera la mia personale visione è questa noi stiamo vivendo un evento epocale che sta toccando tutti noi in un modo e in un altro tutti noi su più sfere alcuni di più alcuni di meno ma siamo toccati tutti e lo stiamo vivendo in un modo dicevamo totalmente nuovo ma è come se noi non avessimo delle risorse consapevoli per affrontarlo in realtà noi le abbiamo allora vi dicevo la mia personale lettura è come se noi fossimo durante una continua scossa di terremoto come se noi fossimo non so la damatrice con il terremoto in corso e questo è anche uno dei motivi per cui se voi andate a vedere in questo momento la mia categoria di psicologi e psicoterapeuti è poco interpellata lo è sicuramente in alcune persone in alcune popolazioni ma lo è poco alcuni dei miei colleghi si stupiscono io no perché in questo momento noi stiamo vivendo la scossa di terremoto quando la scossa si fermerà allora potremo più facilmente di adesso fermarci e dire ok cosa è successo questa roba qui ok dove sto io ok che cosa posso fare per farmi sostenere dove posso andare a chiedere fuori di me dentro di me ok allora se io sono durante la scossa di amatrice non è che chiamo e chiedo aiuto no una delle frasi che abbiamo messo nel post era a volte basta chiedere se hai bisogno ma ci sono dei momenti e allora arriva la difficoltà di concentrazione di focalizzare ci sono dei momenti in cui noi in questi giorni ci sentiamo storditi confusi poco concentrati e a volte anche chiedere aiuto può essere difficile perché siamo ancora sotto botta allora la difficoltà di concentrazione avere difficoltà a dormire avere difficoltà a ricordare avere difficoltà a scrivere un testo avere difficoltà a leggere soprattutto romanzi cose che ci piacciono ma che che in questo momento sono troppo queste sono tutte difficoltà che parlano di un evento traumatico o perlomeno potenzialmente traumatico ma io direi traumatico che stiamo vivendo altro elemento perché questa situazione è così complessa perché si sono attivate tante paure alcune ancestrali alcune oggettive vere là davanti ne sto leggendo alcune alcune le abbiamo scritte nel nostro post alcune sono ipotetiche ma una volta che scatta la paura ce le andiamo a chiappare tutte paura di morire paura che qualcuno a cui vogliamo bene possa morire paura della situazione economica paura del dopo del dopo che vuol dire tanto tante paure quindi paura di perdere e questo si sta attivando tutto insieme voi immaginate come un desktop di un pc dove si aprono tanti file in contemporanea ok paura di sopravvivere anche paura di non sapere come andrava avanti come come andranno avanti le cose ok allora quindi c'è il nostro mondo il mondo di noi adulti abbiamo tante paure allora io prima di andare avanti voglio se avete la pazienza di darmi il tempo di scorrere un paio di di commenti che per non distrarmi io non li ho letti tutti però voglio vedere se ok oh qualcuno non può guardare il gesto che faccio con le mani mi spiace non so a quale ti riferivi ma mi mi spiace ok qualcuno dice che non ha paura beh in linea con quello che dicevo prima ci sono dei frangenti in cui se stiamo sotto sotto l'evento è una protezione certo ed è una protezione anche anche buona di sicuro se l'hai messa in atto è la cosa migliore che per te volevo un po' vedere se le paure che avevate scritto erano insomma in linea con quello che stavo che stavo dicendo quindi ci siamo noi ci siamo noi voglio tenere d'occhio il tempo ci siamo noi che che siamo adulti e abbiamo paura e e poi e poi ci sono i nostri figli allora su questo tema è bene fare un po' di chiarezza c'è chi dice no non parliamo ok ok sì certo ho letto ora il commento di 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 Francesca immagino siete a scrivere che che mi spiegavi di Elena certo è chiaro che anche quello vedete come le cose possono essere attivanti a prescindere dal senso oggettivo no c'è poi un senso soggettivo ci sono degli eventi che rimangono nel nostro nella nostra storia allora vi dicevo la paura nei bambini ci sono persone che ritengono che sia meglio per gestire la paura ok ok Elena ci sono dei dei gesti scusate l'app dei gesti mi sono confusa delle persone che pensano che nei bambini per gestire la paura sia bene non parlare di eventi paurosi mezzo e mezzo io non sono completamente d'accordo sono d'accordo per esempio piano piano vi darò delle piccole regole diciamo durante il covid 19 di buone prassi l'avrete già lette ovunque probabilmente ma io piano piano ve le ripeto telegiornale telegiornale è molto attivante può essere molto spaventante per noi adulti figuriamoci per i bambini che capiscono e non capiscono capiscono di pancia però non sempre riescono a mettere a fuoco ok solo non più di due telegiornali al giorno ma questo lo dico agli adulti perché rischiamo sennò di andare in over 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 super stimolazione nel nostro sistema si attiva il nostro sistema rettiliano che gestisce la paura l'urgenza è continuamente attivato e allora lì arriva non dormire non riuscire a concentrarsi perché è come se io fossi sempre in allerta il numero dei morti il numero dei contagiati un nuovo dpcm potrò lavorare non potrò lavorare allora è chiaro che guardare il tg scegliendo le fonti attendibili lo aggiungo è chiaro che guardarli è fondamentale ma non tutto il giorno non teniamo il tg sottofondo perché così come il nostro sistema limbico si attiva si attiva anche quello dei figli ma ancora di più si attiva il loro sistema quando vedono noi spaventati e qui arrivo al perché a mio parere e non sono l'unica a sostenerlo è fondamentale parlare ai nostri bambini di quello che sta avvenendo anche e soprattutto se questo quello che sta avvenendo ci spaventa perché non parlarne non vuol dire che loro non percepiscano la nostra paura e soprattutto non la vedono nel nostro volto dovete sapere che i bambini prendono non lo dovete sapere lo sapete quello che dovete sapere è un evento che ce l'ha dimostrato i bambini prendono la loro sicurezza da noi allora durante il terremoto di Amatrice un gruppo di terapeuti MDR che quindi lavora sul trauma e lavora in emergenza anche è andato sul posto e ha lavorato con i bambini vittime di questo trauma del terremoto bambini che avevano perso la casa magari hanno fatto MDR questa tecnica avendo proprio accanto la casa distrutta quindi era una situazione molto attivante e da protocollo per fare questa procedura di elaborazione si chiede alla persona in quel caso al bambino qual è la parte peggiore del ricordo che tu hai i bambini dovevano disegnarla raccontarlo o quant'altro ebbene la maggior parte dei bambini ha raccontato ha detto ha dichiarato ha iniziato quindi a elaborare a partire dall'immagine peggiore che per loro è stata la faccia il viso di mamma e papà spaventato ovviamente ora questo che cosa vuol dire che quei genitori non avrebbero dovuto mostrarsi spaventati no non ci dice questo tutt'altro ci dice però che un bambino tra una casa crollata durante un terremoto e il viso di mamma e di papà spaventato ha mantenuto dentro bloccato e bloccante come immagine più il volto che non la casa distrutta allora questo per noi guardate deve essere fonte non di peso ma di responsabilità cioè di abilità a rispondere di questo questo ci deve far capire quanto valore abbiamo nelle mani nell'imparare a gestire le nostre emozioni in questo caso la paura ma tutte le emozioni nell'essere sempre più pratici pratici avere dimestichezza proprio maneggiare le nostre emozioni il nostro vissuto emotivo perché più siamo noi in grado di mettere mano a quello che ci succede e quindi liberare il viso non di quello che proviamo ma dell'eccesso della parte eccessiva più i nostri figli si rispecchiano in noi e noi a nostra volta saremo in grado di leggere le loro esigenze emotive non rimanendo bloccati e inquinati diciamo così dalle nostre allora io vi vorrei dire mille cose però è passato del tempo e la mia grande fatica mirroring anche qui assolutamente assolutamente noi siamo uno specchio il nostro sguardo il modo in cui noi guardiamo ai nostri figli alle loro risorse alle loro capacità alle loro vulnerabilità e è un modo in cui loro imparano a guardarsi e allo stesso modo il modo in cui noi trattiamo noi stessi e le nostre emozioni mirroring è un modo per insegnare a loro a fare lo stesso con le loro e allora io darei altri due concetti easy e poi cercherei di creare un po' di dinamicità mi sta un po' stretto questa questa situazione di parlare 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 e mi piacerebbe invece far parlare voi o comunque rispondere il meglio possibile alle vostre esigenze abbiamo detto quindi alcuni fenomeni che ci accadono che sembrano collegati alle emozioni la concentrazione lo studiare il leggere sono il sonno sono assolutamente collegati con quello che stiamo vivendo e con il mondo emotivo che si sta tutto insieme ristrutturando e abbiamo detto quanto è importante il collegamento tra noi e i nostri figli nel gestire le emozioni allora ho provato a fare credo che voi leggete al contrario però vero? sì mi sa che si legge al contrario datemi un cenno leggete al contrario l'ho riuscita a leggere questo foglio fatemi sapere sì no ve lo leggo io va bene so che c'è un po' di di tempo al contrario infatti avrei dovuto stamparlo al contrario giustamente ma ve lo leggo io allora questo è uno schema semplice che parla di come noi possiamo lo leggiamo a specchio giustamente vabbè noi siamo tutti mirror ok ve lo leggo io ve lo leggo io insegnare l'autoregolazione allora l'autoregolazione è la capacità di ognuno di noi di lo dice la parola autoregolare regolare da soli lo stato si chiama iperarousal lo stato emotivo attivato non è solo emotivo ma comunque adesso per semplificare diciamo lo stato emotivo che ci si attiva per esempio quando io prima ho fatto quel gesto che non ripeto qualcuno si è sentito un po' attivato qualcosa gli si è agganciato e immagino che non sia stato qualcosa che lo ha fatto disregolare cioè uscire da una finestra di tolleranza di dove sentiamo emozioni no ma è qualcosa che lo ha attivato poi iper che iperarousal iperattivazione allora l'iperarousal è una o ipoarousal quando mi iperattivo o quando mi depotenzio mi deprimo l'autoregolazione è quella capacità di rimanere concentrati di se mi spavento non per forza svengo se mi arrabbio non per forza strozzo la persona che ha fatto la cosa per cui io mi sono arrabbiata ok quindi l'autoregolazione è la capacità tipica del cervello di calmarsi le emozioni vanno regolate vanno innanzitutto vanno riconosciute poi vanno validate e significate che vuol dire questo è il processo dell'autoregolazione allora mio figlio si spaventa perché sente al telegiornale che si parla di tanti morti nella città dove vive suo nonno esempio noi siamo lontani suo nonno vive lì si spaventa ok noi possiamo non ti preoccupare spegnere la televisione e chiudere no spegnere la televisione sì però non chiudere l'argomento perché è proprio importante se noi cogliamo i segnali evidenti di paura il nostro figlio sarà proprio importante riconoscere che è paura e non è rabbia per esempio e dirglielo ah ci picchia vedo che sei spaventato e lo dobbiamo validare cioè gli dobbiamo mandare un messaggio chiaro che ha proprio senso che lui si sia spaventato e che non è strano e allora una verbalizzazione può essere vedo che sei arrabbiato scusate vedo che sei spaventato ed ha proprio senso ha davvero senso che tu lo sia e diamo un significato perché hai sentito che nel paese del nonno ci sono stati tanti morti sappi però che il nonno sta bene o quello che dobbiamo dire allora questo passaggio che può sembrare una psicopipica ma è molto semplice da fare e porta in sé il potere di mettere parole alle emozioni mettere parole a qualcosa che è dentro e che se non viene esplicitato rischia di fare un lavorio che non non porta a nulla quindi noi dobbiamo accompagnare i nostri figli nel percepire la paura in questo caso la paura scusate non nel percepire nel riconoscere quello che stanno vivendo nel decodificarglielo anche nel dargli il permesso di sentirlo ha proprio senso che tu la senta questa paura hai ragione no? per esempio hai ragione anche io non so ancora quando tornerai a scuola ma tante persone stanno facendo tutto quello che possono i medici e altre persone perché si possa tornare a scuola il prima possibile faccio questo esempio della scuola perché noi tutti sappiamo verosimilmente che i bambini non torneranno a scuola per molto tempo io credo ma al di là di questo il non andare a scuola per loro crea una non routine al di là di quello che dicano che bello non andiamo a scuola in realtà li destabilizza molto la maestra sarà viva io non la vedo più ma dove sarà? oppure ma i miei amici ma dove sono? cioè questi sono chiaramente a seconda delle varietà ma sono pensieri che possono abitare la mente e il cuore dei nostri figli e un semplice ma ti vedo accruciato ma che hai? cosa stai pensando? oppure che cos'hai della pancia? allora questo è proprio fondamentale mi chiedete anche il cogliere il poco di buono che ci offre questo periodo può aiutare? assolutamente si deve questo si chiama in termine tecnico crescita post-traumatica assolutamente è una cosa da fare così come vi dicevo prima tra le buone pratiche non vedere più di due delle giornate al giorno un'altra cosa che vi dico è tenete un diario e fate tenere un diario ai vostri bambini ai piccolini con un disegno ai più grandi non devono fare grande scritte anche solo una parola ma anche voi adulti non è abbiamo appena detto che non è il momento della concentrazione allora non vi dico fate un diario scrivendo tutto il giorno oggi è successo questo questo perché se no vi riattivate magari lo fate la sera prima di andare a dormire ma scrivete anche solo una parola per dire la cosa che proprio non mi è piaciuta oggi e la cosa bella di oggi sono stato più tempo con la mamma oppure dal lato nostro sono stato più tempo con il mio figlio mi sono fatta una doccia più lunga del solito ho mangiato una cosa più buona ho avuto più tempo per cucinare ho fatto una telefonata con una persona che si sta male magari è ricoverato però io sono stato contento di averlo sentito quindi è un misto sarà un ricordo un evento bello e brutto insieme insomma nutriamoci costruiamoci la nostra risposta creativa la nostra appunto la nostra crescita post traumatica costruiamola e scriviamola ora per rileggerla fra alcune settimane o mesi perché alcune delle cose che stiamo vivendo adesso potremmo dimenticarle allora non voglio perdere una Simona chiedeva perché secondo te sono nervosi e non vogliono affrontare tema compiti scuola ok Simona lo sai che io faccio fatica a fare il dogma no? bianco o nero mi hai imparato a conoscere quest'estate però posso provare a rispondere alla tua domanda diciamo generalizzandola ragionandoci sopra e facendo un modo che magari diventa a favore di tutti allora potrebbe essere che mostrare nervosismo quando si parla di compiti e di scuola o è perché io faccio una serie di ipotesi poi voi capatevi quelle che possono avere più senso per voi perché voi siete i migliori lettori dei vostri figli quindi io vi do il menu e voi costruitevi la vostra ricetta ok? quindi vi faccio un elenco e voi prendete quello che vi può servire e che ha senso per voi i compiti e la scuola attiva sempre attiva in bene e in male se tuo figlio amava molto andare a scuola ed è nervoso quando si tratta di fare i compiti quello che mi viene in mente è che potrebbe essere il motivo potrebbe essere che è molto dispiaciuto è molto arrabbiato di non poterci più andare vedere la maestra l'amica il compagno chi vuole lui e allora questo glielo ricorda è come il mio gesto prima ricorda delle cose che possono essere fastidiose per noi per lui oppure se già da prima faceva fatica allora adesso è sicuro è nervoso perché adesso ha da digerire da tenere insieme tanti pezzi di puzzle mamma e papà che non lavorano più fuori ma dentro perché è bello sì ma mica sempre magari lo spazio a casa va condiviso oppure mamma e papà sì ci sono fisicamente ma sono in smart working quindi sono al pc quindi non mi stanno tanto appresso eppure devo fare i compiti io sono per primo sono confuso non ci sto capendo niente ho un vulcano nella pancia e devo fare i compiti allora esce fuori il nervosismo non so se ho risposto Simona questo è un po' quello che mi viene in mente il diario forse ricrea anche una routine quotidiana in questo periodo di ritmi sballati assolutamente sì è causa ed effetto il diario aiuta a creare routine e aiuta a sua volta a creare una nuova routine in realtà e aiuta anche è un modo per elaborare è un po' un mdr anche quello considerate che un modo per elaborare è narrare narrare scrivere o parlare o raccontare vi sarà capitato di avere anche in questi giorni probabilmente di avere un evento da digerire e tendete a raccontarlo lo riraccontate ma fateci caso quando lo raccontate ogni volta che lo raccontate o aggiungete un pezzo o perdete un pezzo è come se avete presente le immagini dove le cose vanno nello sfondo e rimane in primo piano qualcosa allora ci concentriamo di più su una cosa e il resto va sullo sfondo a forza di narrare di raccontare il nostro cervello digerisce e il diario anche se non è scritto proprio ancora meglio ma anche solo nella singola parola è un modo per oltre a creare routine anche aiutarci a elaborare ok i miei figli stanno cogliendo solo il buono della condivisione ma non vogliono parlare del dramma intorno a loro ok c'è un tempo per ogni cosa dice il Coelet e dicono i saggi c'è un tempo per ogni cosa Tina non abbiamo la fretta di rimaniamo in ascolto e osserviamo ma non è detto che si debba fare nel momento in cui avviene ricordate quando prima vi dicevo immaginate che alcuni di noi o noi in certi giorni siamo un po' come se fossimo durante la scossa di terremoto non siamo nel dopo siamo nel durante e nel durante tentativo di ok mi rivedete si ok ci dovrei essere di nuovo ok Simona ho risposto bene Walter che bello ci sei anche tu allora a noi sta aiutando il momento del video log serale diciamo in video wow cosa è successo durante il giorno wow e Mario aggiunge poi la sua checklist prima di addormentarsi ottimo 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 checklist allora degli studi dimostrano che a fine serata prima di andare a dormire scrivere le cose che si sono fatte ora adesso a prescindere da traumi non traumi cose belle cose brutte scrivere tutte le cose che si sono fatte oppure se si erano scritte prima perché si è abituati a fare delle checklist depennarli questo ha un effetto sul cervello e sullo stato di ansia molto calmante perché il cervello dice ok fatto e aumenta il senso di auto-efficacia quindi bella bella questa idea che possiamo condividere poi vedete ognuno usa i metodi che senti anche più familiari chi parlando chi video chi scrive chi con delle immagini noi per esempio a cena quando ormai anche a pranzo ma comunque a cena ci ritroviamo tutti e quattro e diciamo abbiamo un po' un'abitudine già da prima maggior ragione adesso come è andata la giornata ma soprattutto una cosa bella una cosa brutta cosa ti è piaciuto cosa non ti è piaciuto a tutti e quattro ed è aiuta è un gioco Rossana io scrivo sempre brava spero immagino che se lo fai sempre trovi trovi il giovamento ok Tina sono contenta ti sia utile Valentina ci aiuta molto la videochiamata con le maestre di sostegno wow ogni giorno alla stessa ora Cristian la vive con felicità beh ogni giorno alla stessa ora signori non può che ricordarmi guardate un po' il piccolo principe ogni giorno alla stessa ora che cosa dice il piccolo anzi la volpe al piccolo principe e tu mi verrai a trovare sempre alla stessa ora così che io possa collegare quell'ora all'attesa tua il grano al colore dei tuoi capelli ricordate quel pezzo in quel pezzo si parla di creazione di legame i nostri figli devono in qualche modo mantenerlo questo legame quindi bellissimo che l'insegnante di sostegno lo faccia allo stesso orario wow possiamo crearlo anche noi facendolo magari con un parente che sappiamo essere piacevole per nostro figlio credo che i miei bimbi risentano del fatto che non possono vedere la nonna è verosimile lo capisco lo capisco molto mi chiedo se li aiuta se avete modo per esempio di fare video telefonate se questo in qualche modo li aiuta o no probabilmente quando dici vedere intendi anche abbracciare però sì credo che cogli bene Rossella cogli qualcosa proprio di molto sensato è stato proprio mio figlio c'è chi scrive a propormi l'utilizzo del diario guardate sono fantastici i nostri figli chiedendomi di mettergli dei voti ecco questa è una deriva scolastica ho notato che facendo così è molto più stimolata a studiare wow bello assolutamente beh guardate il diario può diventare non solo con le due parole ma anche più scritto più dettagliato può diventare un modo per a seconda dell'età un modo per fare didattica nella classe di mio figlio a una quarta elementare le maestri hanno scelto di dare questo è difficile dare i compiti sulla piattaforma quindi sì li danno ma danno anche ogni giorno scrivi un diario una pagina di diario hanno spiegato la tecnica quindi sì vedi tuo figlio Alessi è stato molto acuto molto acuto e si è auto motivato a chiassò a te di valutarlo così che lui potesse avere soddisfazione con i miei figli facciamo spesso il gioco a proposito del gioco adesso vi faccio vi do un po' di dritte di pensa alla cosa che ti è piaciuta di più quella che ti è piaciuta di meno della giornata non posso essere che d'accordo perché lo faccio anche io sono di parte ma sì credo proprio che sia una buona pratica allora Valentina scusami mi dice Agnese il terremoto dura poco sarà sicuramente purossissimo ma qui siamo parliamo di giorni di mesi ed è un dolore tutti i giorni assolutamente Agnese tu hai assolutamente d'accordo non ho altro da dire ovvio era un un esempio non calzante alla lettera ma per dire come questo effetto e questo è il problema vero di questi momenti non è solo che ci sono attivate tante paure ma che abbiamo la sensazione a volte la certezza a volte ora vi spiego perché parlo di sensazione la sensazione che questa roba qui non finirà mai allora dura giorni è un dolore enorme non è infinito cioè senza fine lo percepiamo in certi momenti senza fine è qui che solo tu puoi farlo ma non devi farlo solo allora qui mamme papà ancoriamoci ancoriamoci gli uni agli altri facciamo rete videochiamate whatsapp facciamo rete con chi è più vicino a noi se possiamo con chi è lontano ma raggiungibile con la tecnologia non facciamoci risucchiare dalla trappola del non avrà fine perché quello è un tranello che manda in tilt il nostro nostro cervello è dura è dura è stata dura fino adesso è ancora dura per alcuni di noi molto più che per altri e lo sarà lo sarà ancora per un po' ma avrà una fine avrà una fine e non voglio semplicemente buttarla in cacciara con l'hashtag andrà tutto bene non sto facendo la favola di Poliana sto dicendo che dobbiamo ancorarci al fatto che avrà un termine tutto ciò e insieme a questo accettare che ci saranno ci sono dei momenti in cui non possiamo fare molto il senso di impotenza è un qualcosa di molto faticoso e doloroso da gestire e noi a volte pensiamo che gestire l'impotenza voglia dire muoversi immaginate di essere in una palude nelle sabbie mobili se vi muovete troppo è peggio ci sono dei momenti in cui è bene imparare a stare e aspettare e di nuovo reggere e farsi reggere autoreggere e reggersi a vicenda perché in una palude si esce o stando fermi o essendo tirati fuori da qualcun altro questo è il senso anche di questo nostro incontro di oggi qualcuno chiedeva prima anche per il futuro quando finirà il terremoto come possiamo prepararci mamme belle papà belli ci dobbiamo preparare mantenendo uno sguardo attento a noi stessi in primo luogo e ai nostri figli e monitorare se daranno segni di disagio a intervenire con i mezzi giusti io non lo faccio chi mi conosce sa che non faccio discorsi di categoria per tirare acqua al mio mulino della categoria intendo ma questo più che adesso dopo sarà il momento di farsi supportare dal punto di vista psicologico a mio parere non però in modo automatico mantenendo attento lo sguardo su quello che i nostri figli se parliamo dei figli ci mostreranno ma ancora prima su quello che noi avremo da smaltire anche qui una simbologia che uso spessissimo in diversi contesti la mascherina qui ci sta dell'ossigeno durante un volo quando si vola e si parla delle misure di sicurezza gli assistenti di volo non dicono in caso di pressurizzazione scenderanno le mascherine dell'ossigeno e in presenza di bambini datelo prima ai bambini che cosa dicono in caso di bababababa prima voi adulti dopo i bambini perché quando io non ero mamma e sentivo questa indicazione mi mi seccavo no questi ma insomma poi sono diventata mamma e ho capito sono diventata mamma e ho capito che se io non ho la mia mascherina d'ossigeno quanto mai ahimè in questi giorni questo esempio è calzante se io non ho la possibilità di capire come sto di prendermi cura di me nei modi che ognuno poi sa e scoprirà e non posso farlo per i miei figli allora il nostro dovere la nostra responsabilità la nostra abilità di rispondere del nostro dovere di cura nei confronti dei nostri figli tutti sia quelli più vulnerabili che quelli meno ho messo che ce ne siano sono tutti vulnerabili in modo diverso e tutti con risorse in modo diverso allora quella responsabilità noi la dobbiamo portare avanti solo tu puoi farlo ma non devi farlo solo quindi con l'aiuto della rete del gruppo eccetera ed è un modo per prenderci cura di loro non so se ho risposto come prepararci questo è un po' abbracciare vogliono abbracciarli Rossella hai ragione hai ragione beh io posso dirvi questo l'altro giorno con una paziente con cui sto lavorando via Skype abbiamo fatto questo esercizio dell'abbraccio lei aveva anche lei le mancava molto non poter abbracciare una persona allora io le ho chiesto e possiamo farlo anche noi perché non è una tecnica terapeutica è una cosa bella una buona pratica e ogni tanto facciamolo facciamo così abbracciamoci e cerchiamo di pensare alla persona che vorremmo abbracciare magari la chiamiamo in videochiamata e lo facciamo a vicenda e respiriamo dentro questa questo gesto e io l'ho trovato utile per me perché anche io sono in isolamento anche a me mancano tanto le persone certe persone più di altre ovviamente e l'ho trovato utile proponendola agli altri quindi ve lo propongo Anna Diletta io domani manderò email alle maestre per proporre il diario bellissima idea che bello sono contenta lo dirò alle mie maestre che è stato utile allora ok stai ok resterà il video ok si rimarrà il video nei prossimi giorni e per chi già veniva da due anni orribili è l'eleonora mia tesoro è il terremoto sul terremoto bisogna a maggior ragione fare rete fare rete prendersi cura prendere più ossigeno e non mollare e non mollare dentro il cibo cibo per esempio si diceva prima ma ci sono anche delle cose belle da questa quarantena eh sì ma se io riempio il mio zaino solo di massi non ne tolgo mai non lo vedo e poi a un certo punto ci incurveremo a un certo punto il camminare davanti al primo alla successiva difficoltà sarà davvero complesso allora bisogna che ci prendiamo cura dei delle cose orribili che ci avvengono ma mano a mano che avvengono le videochiamate aiutano molto riportano un pizzico di normalità sì assolutamente assolutamente sì io anche a mia figlia adolescente le ho autorizzate senza limiti in questo periodo ok Giuliano deve tornare a lavorare lo capiamo è stato bello averti Graziano e Stefana per noi i compiti sono terapeutici sono un momento di riflessione di analisi e di riflessione studiare aiuta molto bene vedete che bello questa è la bellezza dei bambini Marta è proprio quello che mi ripeto tutti i giorni ci vorrà tanto ma passerà sì ci vorrà tanto è vero ma passerà 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 grazie a te Giuliano di esserci stato eh sì Agnese il senso di impotenza è è faticoso è faticoso a volte a volte bisogna imparare appunto anche a stare in quel senso il nostro cane aiuta yes per overdose coccole compensative in questo periodo sì 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 avrete visto c'è stata anche una campagna sui social io non porto il virus una cosa del genere assolutamente i cani non solo non portano il virus ma tolgono la parte di virus emotiva intanto non voglio essere banale ma grazie al cane si può fare una passeggiata in più e questo già è qualcosa ma al di là di questo è proprio una vera e propria pet therapy è un autoregolatore vi ricordate prima vi parlavo di autoregolazione e di iper arousal i cani è dimostrato non solo i cani scusate gli animali alcuni animali più di altri ma aiutano proprio ci sono degli studi fantastici su questo aiutano ad autoregolare abbassare il livello di iper attivazione poi un giorno mi piacerebbe parlarvi della finestra di tolleranza e del fiume del benessere magari vi darò dei riferimenti bibliografici cose molto semplici ma insomma troppe cose a potervi bello questo esercizio dell'abbraccio mi ha commosso e mi commuovo anch'io nel leggere che ti sei commossa grazie a te eh sì le parole abbracciano le parole quante volte ce lo siamo detti le parole hanno un senso allora se hanno un senso quando feriscono e quando ci sono gli haters sulla rete per esempio hanno un senso anche quando leniscono i dolori le parole possono davvero essere un balsamo per il nostro dolore mi distrugge il dovere allontanare Luca che mi vuole abbracciare per il suo bene Tina spiegaglielo l'avrei già fatto probabilmente spiegaglielo diglielo trova il modo di giocare guarda forse ti consiglio una favola la favola è mamma nastrina e papalluna forse ti può aiutare a spiegare a Luca il perché in questo momento dovete stare così lontano ma che non è un essere distanti te lo consiglio e poi esatto come dice è quasi finito oddio mio telefono sta facendo le bizze spero che voi continuate scusate io spero che voi mi continuate a vedere no forse no ok io non vedo più i commenti allora prova a collegarmi sul pc allora se mi sentite ancora credo che il mio cellulare stia facendo le bizze mi continuate a dare degli alert brutti e io non vedo più i vostri commenti ma prova a spostarmi ok mi sposto sul pc così magari vi leggo da lì sperando però che voi mi stiate ascoltando ma oddio allora io vedo i commenti si vedo che sta continuando allora ok mi sembra di capire che stiamo grazie per no niente vabbè però ci ok grazie davvero per questo spazio grazie a voi e grazie a fight the stroke che l'ha reso possibile preziosa valentina davvero anche voi avete abbracciato me bisognerebbe avermi sul comodino vabbè sono nana ma non piccola abbastanza e allora io temo di dover chiudere ok vedo che Francesca mi scrive aspettate scusatemi ok ok